10 5 4 3 2 1 vai 50 sinistra 4 tieni per destra 4 lascia e sinistra 5 tieni subito il tornante destro 2 50 ritarda la destra e tienila per tornante sinistro 3 30 anticipa sinistra 5 per destra 6 e al Biri sinistra 3 Biri sinistra 3 per destra 4 e destra e sinistra 3 tieni 3 tieni per al terzo Biri ritarda destra 3 tieni per ritarda poco sinistra 3 ritarda poco il 3 accenno destro in sinistra 5 tieni 5 tieni ritarda poco poco destra 3 più 3 più alla pianta ritarda sinistra 3 alla pianta ritarda il 3 50 stacca e ritarda stacca e ritarda destra 3 stacca e ritarda destra 3 per sinistra 3 0 3 tieni subito tornante destro sale fallo pulito via apri pulito sinistra 5 al cartello sinistra 4 50 90 e sinistra 3 no vai scivola no vai scivola 80 apri il volante 80 al secondo Biri sinistra 3 tieni 3 tieni per ritarda poco destra 3 vai occhio interno 30 al rail ritarda destra 4 lunga tieni 4 lunga tieni per sinistra 3 meno meno 3 meno meno al primo palo destra 3 per sinistra 3 lascia 3 lascia e destra 6 30 al rovescio destra 4 per al primo palo sinistra 3 tieni per stacca destra 2 no stacca destra 2 no e scendi fallo pulito e via 30 ritarda sinistra 3 più no per destra 4 in sinistra 4 30 e ritarda lo specchio destra 3 lo specchio destra 3 e sinistra 5 lascia 30 al Biri sinistra 4 tieni al Biri in destra 5 veloce veloce apri il volante qui eh 100 stacca ritarda poco sinistra 4 al Biri 4 al Biri per destra 5 tieni entra al dosso sinistra 3 sporco no 3 sporco no per ritarda molto sinistra 2 scivola 2 scivola subito destra 3 apre in sinistra 3 per ritarda destra 3 molto sporco per ritarda al sinistra 3 30 ritarda al 3 30 destra 6 destra 6 e al rovescio destra 5 per destra sinistra 4 non lascia veloce e poi apri il volante e dopo c'è la chicane entra destra prima del bianco sinistra 4 sudosso per entra destra 4 30 al secondo Biri sinistra 3 per destra 3 più tieni al vuoto palo grosso sinistra 4 sudosso occhio qui per stacca ritarda destra 3 più sporco 3 più sporco il destra ritarda molto sinistra 3 tieni no e dopo ancora no per attenzione ritarda molto destra 3 scivola 3 scivola 30 stai a sinistra destra 3 tieni 3 tieni per entra sinistra 3 entra il 3 30 allo specchio destra 3 più 0 3 stretto e di qua poi tutto giù in destra 6 lascia 50 per destra 5 pieno 30 stai a destra e sinistra 5 tieni e 50 e stacca chicane entra a sinistra 50 poi metti la seconda eh Bivio sinistra 1 e poi una bella spazzolata eh vai spazzola già via via bravo destra 4 lascia per 50 destra 4 tieni stai al centro per attenzione ritarda molto sinistra 2 ritardala molto è questa qua per destra 5 lascia 30 al cartello ritarda forse pieno sinistra 5 tieni occhio interno per stacca destra 2 stacca destra 2 30 ritarda alla pianta sinistra 3 sudosso dritto la pianta lassù quando la vedi la ritardi 30 sinistra 5 tieni 50 ritarda al tratteggiato destra 3 al tratteggiato destra 3 30 sinistra 3 alla cappella per destra 6 30 e stacca sinistra 3 no al palo 3 no al palo 30 a fine del rail destra 3 quando vedi il fine rail ti butti dentro il destra 3 la via 50 sinistra 6 lascia 30 e stacca molto tornante sinistro 2 ritarda tornante destro 2 ritarda tornante destro 2 100 stacca al birri destra 3 stacca al birri destra 3 per ritarda al palo alto sinistra 3 meno quando vedi il palo alto fa il sinistra 3 meno per alla siepe storta destra 4 e via dentro anticipa destra 5 veloce qui 30 stacca ritarda molto destra 2 ritarda molto destra 2 e poi dentro 30 ritarda sinistra 3 0 3 scivola su fine prova via butola dentro via bravo grazie 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 grazie